Allora, incominciamo a fare due salutini. Allora, salutiamo da Cunio, Alfredo Salerno e la moglie Irina, che la settimana scorsa non ce l'abbiamo fatta a salutare. Sì, lo salutiamo adesso. Ciao Alfredo! Il maestro Ciro De Rosa, Tino Costa, Gianni Casaretti, Anna Sgambati da Mondragone, Salvatore Di Fonzio e Pino Mele. Benissimo, questi bei saluti, mi associo a questi saluti, perché poi molte persone dicono, ma com'è, tu non leggi mai i saluti, non posso leggere io. Allora, noi decidiamo insieme a ci salutare e a chi non salutare, ma no perché abbiamo preferenze, cerchiamo sempre di salutare magari qualcuno che non abbiamo salutato la settimana prima, ok? Poi se ce la facciamo, noi facciamo il saluto in generale e quello vale per tutti. Per tutti quanti, brava Mary, brava Mary.